E in programma domani la saluta straordinaria del Consiglio regionale, che è l'ordine del giorno, prevede tre punti di assoluta importanza per il futuro dell'Abruzzo, di fronte ai quali pretendiamo una presa di posizione chiara da parte della maggioranza. E quanto dichiarano in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, Mauro Febbo, Gianni Chiodi, Emilio Iampiere e Paolo Gatti. L'ultimo punto all'ordine del giorno, ma non certo per importanza, riguarda la discussione sulla chiusura dei quattro punti in ascita, di fronte alla quale la maggioranza non può più sottrarsi. Continuare a scappare e pensare che il Consiglio regionale sia escluso per sempre dalle decisioni in materia di sanità non solo vuol dire mettere la testa sotto la sabbia, ma rappresenta soprattutto una strategia insensata dal punto di vista politico. L'uscita dal commissariamento vuol dire che le decisioni future dovranno passare dall'ola consigliare e a quel punto tutti i noti torneranno al pettine. E se la maggioranza vuole appoggiare le scelerate decisioni della coppia di Alfonso Paolucci, concludono i consiglieri regionali di Forza Italia, deve assumersene le responsabilità. E in quel caso ci auguriamo che il presidente di Pancrazio non tenga di nuovo lo stesso comportamento dell'ultima seduta e permette regolare il svolgimento della discussione, invece che cavillare sul regolamento, impedendo di fatto che le comunità si confrontino su un tema così importante. Grazie a tutti.